L'edilizia, grazie ai numerosi incentivi fiscali, ha avviato molti cantieri nel 2021. Le commesse sono cresciute in modo esponenziale, i prezzi dei materiali sono saliti alle stelle, mentre la mano d'opera specializzata è diventata sempre più rara. Si sono moltiplicate le nuove ditte e gli infortuni sul lavoro hanno registrato un forte aumento. Come sottolinea il presidente del settore edilizia di confrattigionato in prese Piemonte, Enzo Tanino, i cantieri aperti sono migliaia, piccoli e grandi interventi che hanno avuto il merito di rilanciare l'edilizia, ma purtroppo come conseguenza quello di far lievitare i costi dei ponteggi e dei materiali. Inoltre occorre fare tutto in fretta perché per le proprietà unifamiliari bisogna completare almeno il 30% delle opere entro il 30 giugno del 2022 per poter incassare il contributo. E questa è la ragione che ha portato all'aumento di nuove imprese, spesso improvvisate, che non sono in grado di far fronte alle prescrizioni normative sulla sicurezza. Sono 44 i morti sul posto del lavoro in Piemonte nel 2021, una vittima anche a Biella. La legge di abilitazione al settore, che potrebbe impedire l'accesso a imprese improvvisate, è una richiesta in evasa da 40 anni. L'ultimo testo è fermo in Parlamento dal 2010.